Emiliano, sei pronto per il gravity? No! Come no! Siiii! Grande Emiliano! Ma io tu sta caricando per la mente un pochierino! Dai ragazzi che qui abbiamo anche la sacchetta della monnetta del furgone, eccolo! You gonna want me, but when you want me, it might be a different story! I know! You gonna want me, but when you want me, it might be a different story! E' un grande nacreato junior che gliele darà a nacreato senior, lo vedi? Questo ci darà soddisfazioni! Chegnos! Chegnos! Sous-titrage ST' 501